22 persone denunciate, 18 delle quali sottoposte a misura cautelare. E' l'esito finale della operazione di polizia tra le province di Trapani e Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalla Squadra Mobile di Trapani dal commissariato di Marsala con la collaborazione della Polizia di Catania. Gli investigatori ritengono di avere individuato tre gruppi criminali, tra loro collegati, specializzati nel furto delle postazioni Bancomat che venivano letteralmente sradicate mediante l'utilizzo di escavatori. Quattro i colpi messi a segno ed uno tentato. La prima incursione risale al 10 luglio del 2019, a Marsala, ai danni di uno sportello della banca intesa. La seconda a Xitta, il 31 agosto, presso una filiale del credito valtellinese. Il terzo e il quarto assalto, ancora a Marsala, il 3 ottobre e il 10 novembre dello stesso anno, ai danni rispettivamente della banca di credito cooperativo Tognolo e di una finiale di poste italiane. Infine, il tentativo non andato a buon fine avvenuto il 19 febbraio 2020 allo sportello ATM del credito siciliano di Trecastagne e Tneo, in provincia di Catania. I malviventi utilizzavano escavatori rubati per scardinare le postazioni Bancomat e poi, dopo averli caricati a bordo di altri veicoli pesanti, sempre oggetto di furto, aprivano i Bancomat in località appartate per estarne dall'interno il denaro. Immediata la sensazione degli investigatori, già dopo il primo assalto a Marsala del luglio del 2019, di essere di fronte a uno o più gruppi specializzati nella esecuzione di tali particolari colpi. Ma, per quanto ben organizzati, è difficile oggi sottrarsi alle investigazioni, effettuate anche attraverso le moderne tecniche di accertamento biologico, su alcuni oggetti rinvenuti e sequestrati dopo uno dei colpi. Insomma, le tracce di DNA rimangono e sono difficili da cancellare. L'ammontare globale della somma asportata ammonta ad oltre 225.000 euro, di cui 74.000 circa sono stati recuperati durante le indagini e restituiti alla banca assaltata.